Per me l'Europa è un'opportunità, anzi è un insieme di opportunità. Mi dà la possibilità ogni volta di più di essere me stesso, quindi con la mia identità piccola catalana, però che si trasforma in una identità molto più ampia e quindi con possibilità di capire e comprendere altre culture, altri popoli, altre visioni del mondo.